Bentornati in questo nuovo video, oggi vi illustrerò un pochettino le funzioni utili della componente transform che potrete utilizzare. Sappiate sempre che ciò che vi dico è solo una parte delle API che vi invito sempre a leggere direttamente dalla documentazione del sito di Unity. Ma andiamo al video di oggi, ipotizziamo quindi di voler utilizzare il nostro componente transform per traslare questo cubo verso destra per esempio. Quindi quello che faremo è riferirci a questa componente all'interno del nostro script e utilizzare una funzione che alla pressione di un tasto mi permette di farlo muovere. Lo script che utilizzerò è uno script che ho chiamato e che ho creato comportamento cubo ed è fatto in questo modo. Nella mia funzione update, quindi ad ogni frame, mi controllo se premo il tasto A. Successivamente applico, mi riferisco alla componente transform in questo modo scrivendo appunto transform senza che effettivamente la prenda da qualche parte poiché è inclusa in ogni classe che derivi da monobehavior e tramite il punto utilizzo la funzione translate che prende come parametro un vettore che sarà a indicare la direzione e anche l'intensità con la quale io mi sposto, voglio spostarmi con la quale mi sposto. Io ho detto che voglio spostarmi esclusivamente di transform in doctor height e essendo che transform in doctor height è un vettore unitario preferisco moltiplicarlo per un float in modo tale che l'intensità sia superiore e possiamo vederla meglio a video. Ho inserito lo script nel game object e adesso verifichiamo che effettivamente funziona. Io ora premo A e potete vedere come effettivamente si sposta. Tuttavia questo movimento è molto difficile che a noi ci capita di volerlo all'interno dei nostri giochi, cioè è un movimento molto a tratti, molto a strattoni, ed è per questo che entra in gioco il cosiddetto time dot delta time che avrete visto sicuramente in altre serie, soprattutto quando io all'interno del mio update inserisco, moltiplico anzi, il mio movimento spesso, comunque quando voglio un qualcosa di fluido per time dot delta time. Time dot delta time cosa vuol dire? è praticamente la differenza tra il frame in secondi, la differenza in secondi tra il frame precedente e il frame attuale. E quindi è un valore molto piccolo che mi permette di trasformare qualsiasi, in questo caso movimento, da un movimento definito tramite un'entità, quindi mi voglio spostare per esempio di 3 metri, ma voglio spostarmi adesso di 3 metri al secondo. Praticamente vuol dire questo, cioè io trasformo il mio movimento da un movimento in secondi, quindi in automatico diventa smooth, diventa lineare, diventa fluido. Testiamolo subito, effettivamente, quello che succede. Quindi io in questo caso aprirò il mio script e vedete com'è. Ora, il movimento non è fluido perché io adesso dovrei cambiare da getK down a getK, in modo tale che mi possa rilevare la pressione del tasto, e quindi il movimento può essere più fluido, più meccanico. Vedete comunque come adesso si muove in maniera pulita e sistemata. Adesso quindi è un movimento che è esattamente di 3 metri al secondo, di 3f al secondo, e non più di 3f e basta. Quindi time, delta time, ricordatelo perché è molto utile, lo utilizzerete veramente tantissimo nei vostri giochi, soprattutto col movimento. Un'altra funzione molto utile di transform della componente transform è il rotate. Il rotate mi permette di ruotare il mio oggetto secondo un determinato angolo. Infatti qui posso prendere come dei parametri un angolo, può prendere come parametri un asse lungo il quale applicare l'angolo di rotazione, eccetera, eccetera. Ipotizziamo che io volessi semplicemente prendere la funzione iniziale, ovvero quella che ha bisogno soltanto di un parametro, e questo parametro è un angolo che applicherà una rotazione lungo l'asse iz di default. Quindi io voglio ruotare adesso il mio cubo, per esempio, di 30 gradi. E io scrivo qui il vettore, no, devo scrivere vector3, punto. Facciamo forward per 3f. Lo inserisco qui in modo tale che si possa vedere meglio a video. E vedete come effettivamente sta ruotando lungo il vettore che io gli ho detto dell'entità 3f. Ora, anche qui, in questo caso, essendo che io sto facendo getkey, getkeydown, io potrei anche, per esempio, far sì che il mio gameobject possa ruotare continuamente all'interno del gioco, andando a togliere la mia variabile di input che ho inserito là. E quindi questa meccanica si può utilizzare veramente tanto quando, per esempio, animiamo degli oggetti, come nel caso del mio, dell'fps multiplayer che stiamo creando, lì i pick-up, quindi gli oggetti, le armi che sono collezionabili, le abbiamo fatte ruotare tramite transform.rotate. Un'ultima cosa che vi voglio dire del transform è il cosiddetto transform, la funzione transform.lookat. La funzione .lookat è una funzione che mi permette di spostare il vettore dell'asse 0, quindi il vector.forward nel mio oggetto, lungo l'oggetto che io specifico tramite parametro. Quindi ipotizziamo, per esempio, che io adesso voglio inserire qui un transform pubblico che inserirò tramite editor e sarà chiamato sfera. E qui dirò all'oggetto al quale io sto applicando questo script di mettersi continuamente rivolto verso la sfera, quindi di puntare praticamente continuamente la sfera. La transform.lookat è molto utile quando, nei sistemi di puntamento, o, per esempio, nella telecamera. Ipotizzate che io sto morendo per qualche motivo e voglio puntare l'ultimo giocatore che mi ha ucciso, un po' come su Call of Duty, se non sbaglio, vi era proprio questo discorso. Per rendervi meglio l'idea, farvi vedere di più l'effetto, inclino leggermente questo piano, in modo tale da far crollare questa pallina verso il basso e quindi far puntare la mia telecamera sempre alla sfera. Applico lo script a... L'ho applicato? Sì, devo, però ho sbagliato l'oggetto, devo mettere la sfera e vi faccio vedere come effettivamente, vedete qui come sta puntando continuamente la mia sfera ed fa in modo che è sempre rivolto verso quest'ultima. Quindi lookat è sicuramente una funzione molto utile che vi permetterà di sfruttarla veramente in qualsiasi modo. Ma non fermatevi solo alla telecamera, può essere usata anche, per esempio, per far sì che il nostro personaggio punti un determinato oggetto, per esempio in una mira assistita, come quello che avviene per console. Quindi abbiate sempre un po' di fantasia. Bene, per oggi il video è tutto, mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!